Era stato annunciato in un primo momento per gli inizi di dicembre, poi sopra luogo di sindaco assessore a ridosso del Natale che lasciava presagire tempi brevi. Ci è voluto invece un po' più del previsto, ma nella mattinata del 14 gennaio il nuovo svincolo in uscita dalla 8 ha aperto ufficialmente al traffico. Un'opzione in più dunque per chi arriva da Milano e vuole raggiungere Varese. Prendendo l'uscita indicata come Via L'Europa-Via Gasparotto, basta infatti superare un primo sottopasso e la successiva rotonda per raggiungere poi la galleria che sbuca direttamente sulla grande rotatoria davanti al supermercato Estelunga, bypassando così i due semafori agli incroci con Schianno e Capolago che si incontrano se si prende invece l'uscita precedente. Un accesso in più per entrare in città, particolarmente utile in questo periodo di criticità per il traffico varesino, in concomitanza con la chiusura del raccordo a 8 in entrata e uscita da Largo Flaiano. Per entrare a Varese Centro la viabilità avrà ora un po' più di respiro, anche se Palazzo Estense continua a suggerire di utilizzare le uscite Varese Est e Ovest. Non cambia invece la situazione in uscita dal centro, con i disagi che non si fermano, come dimostrano le code che giornalmente si verificano tanto in Via Gasparotto quanto nella parte terminale di Via L'Europa in direzione autostrada, in particolare negli orari di punta. Il consiglio della polizia locale di Varese è quello di scendere da Via Corridoni, quindi imboccare la SP1 ed entrare poi in A8 da Buguggiate.